ragazzi c'è la spiaggia rosa in sardinia e questa è la neve rosa ad agosto sto camminando sulla neve c'è nessuno si può fare si può andare scendere giù molto bello qua non c'è nessuno nessuno c'è la neve anche di la la montagna capo chiamiamolo così e c'è la neve bellissimo bellissimo la tranquillità lo stato puro